segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te una pausa di dieci giorni prima di fare una risposta dicendo dieci giorni li dedichiamo alla trattativa per liberare gli ostaggi e comunque avrei dato una risposta sorpresa non subito azione reazione che era esattamente quello che voleva mantenere il tuo potere netaniao lo stiamo dicendo dall'inizio quindi non avrebbe fatto questo perché il suo problema è un altro è restare al potere e quindi più morti ci sono rimane la domanda cosa avresti fatto allora però io adesso ho una domanda un'altra per voi perché c'è un'altra notizia importante oggi che se venisse confermata dai fatti sarei